L'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cimino di Termini Merese taglia il traguardo del parto numero 500, raggiungendo a poco più di un mese dalla fine dell'anno lo standard richiesto dal Ministero della Salute. A festeggiare l'evento è stata, a mezzanotte e 32 di lunedì scorso, una bimba dal peso di 3,4 kg, nata da parto spontaneo. Nel 2016 erano stati complessivamente 574 i nati nell'ospedale Termitano, con una percentuale di tagli cesari al di sotto del 20%, così come richiesto dalle indicazioni ministeriali. È un traguardo, ha sottolineato il commissario dell'ASPE di Palermo, Antonio Candela, raggiunto grazie alla professionalità e sensibilità di un'equipe eccellente guidata dal primario Giuseppe Canzone e grazie anche alle strutture su cui può contare un reparto, sicuramente tra migliori in Sicilia. Dallo scorso mese di aprile è stato inoltre dotato di un nuovo complesso operatorio e sale parto, realizzato con un investimento di 983.834 euro al quinto piano di un'area di 600 metri quadrati, adiacente alla zona d'Eggenza. All'interno del nuovo complesso operatorio sono presenti tra l'altro due sale travaglio parto e post partum per il parto fisiologico, di cui una con vasca per il parto in acqua, una sala operatoria dedicata a H24 per le emergenze e urgenze ostetriche, una sala operatoria per le attività chirurgiche di ginecologia e ostetricia programmate con specifiche tecnologie per le attività chirurgiche di endoscopia ginecologica, l'isola neonatale dove è possibile erogare le attività assistenziali a due neonati contemporaneamente e infine l'area per la preparazione e risveglio delle pazienti. Per un maggiore comfort delle pazienti e per implementare il percorso di umanizzazione della nascita, ha aggiunto Candela, le sale del travaglio e del parto e del post partum sono dotate di impianti di illuminazione, filodiffusione e musicoterapia che favoriscono il relax. Con il superamento dei 500 parti sono stati soddisfatti tutti gli standard organizzativi, tecnologici e strutturali richiesti dalle normative ministeriali. Il raggiungimento di questo traguardo è motivo di grande soddisfazione, ha detto il primario Giuseppe Canzone. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori che con professionalità ed impegno costante hanno assicurato H24 un'adeguata assistenza alle partorienti che si sono rivolte alla nostra struttura. Un grazie particolare va inoltre alla direzione generale che ha costantemente sostenuto il percorso di adeguamento strutturale e tecnologico del punto nascita fino al suo completamento. Grazie a tutti.